rimangono la e grande fan di questo bene contro male poveri contro ricchi ordine contro disordine rivolta contro controllo come affronti la lenta via del declino morale spirituale del lazio meridionale ciao ascia lasca purtroppo c'è una tendenza un po nei nostri esseri umani nei nostri colleghi compagni amici di questo declino parenti l'unica cosa che possiamo fare cercare di rallentarlo un po impegnandoci un po di più non non molliamo la guerra ancora lunga non abbiamo ancora perso anche se stiamo perdendo vedete varie risse fra i gattini che amano giocare sono molto violenti cos'è questa white girl pop music in sottofondo è la mia playlist con kaya questa canzone la porta a questa playlist non lo dice credo kaya bel messaggio per l'ucraina paolo cosa ho detto l'ucraina sono proprio dei giocarelloni questi gatti ragazzi fanno veramente molto ridere dovrebbero andare di leona mf no jean dubito che avevano le leona lo prendiamo per i vult click ragazzi dovrebbe essere almeno il support più forte della squadra dovrebbe essere smolder top quindi picchiamo timo should be smolder smolder top right we swap grazie questo ragazzo con cui hai fatto l'ho fatto dire al matrimonio grazie è stato super gentile wolf hero ti mancherebbe king ho fatto anche un video alla tua ragazza se non sbaglio o eri un altro ragazzo hai sentito della situazione del visione gattopardo welt melteco che ne pensi è un bel casino ragazzi perché il gattopardo è sempre uno che fa le diavolerie andiamo dei blitzcrank con pic molto forte con draven con shark abbiamo anche il potential dall'altro lato sono tutti campioni immobili e off squishy io ho un leggero freddo quindi con permesso mi andrò a mettere dei pantaloni ritro da un sintomi usc di 얼ποι e chat le ecco ecco c'è ecco 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 ho anche le scarpe che sono un po' a bassa temperatura e poi ci mettiamo anche i pantaloni 17 mesi di sub altro che foto e video per ragazzi dovevi fare pure un balletto IRL l'ho toccato mi sono limitato a toccarlo con molto affetto ma c'era anche TLTR che ne aveva 50 a lui ho fatto direttamente un bocchino e allora ragazzi andiamo ad invadere venite con me e andiamo a scoprire che cosa ci sarà dall'altro lato della Summoner's Rift good luck and fun boys wanna win this one let's give it all cheers 22 si scrive quando vede queste belle giocate era proprio al pelo nah well played dude guardate quanto I was fixing my bots you are out of your mind bro 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 you make me blush stay focused stay focused and win this shit gay this one vede con flash up as a king bella lunishin con il subscribe il suo primo sub benvenuto campione appassiamo la musica alziamo leggermente il gameplay mettiamoci dritti con la sedia così schiena dritta gameplay dritto occhiali aggiustati e andiamo subito a prendere un po' di di pressure nelle stiamo giocando contro dei incredibili caga sotto stiamo preso una incredibile ward hanno perso comunque il minion non divertente per loro giocare a league of legends in questo istante non regrappare la pinera mannaggia il mare esco ogni tanto esce proprio la mia origine araba quando miss grab non se l'avete notato mi chiedeva sei veramente un uomo uno contro due senza paura forse ho un po' di paura dovevo averla male 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 ma male da morire eh io sono morto la magia del natale siamo vivi paolo devi solamente entrare in partita abbiamo perso una kill su draven e adesso vogliamo e adesso vogliamo grabbare seraphine non mi avrei mai non mi avrei mai senti ricolliamo con tutte le dignità di questo mondo fa lo cannone canale è volgare un po' patetico e volgare un po' vedi non l'ha nemmeno detto sei patetico e volgare ha detto un po' patetico un po' volgare e io posso dire mi ci ritrovo al 100% in queste parole lo sono lo sono dico spesso le parolacce e poi ho messo i crab e dove vai e dove e dove vai non mi capiego dove vai dove oh no porco dius si sono spaccati alla faccia mi ha fatto cagare addosso ti ho fatto male alle gambe ah seraphine in seconda non è il flash ok come cazzo l'hai messa da quella perità forse dovevo fare io prima lei no porco dius sono massacati mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia allora loro hanno forzato noi dovevamo abbassarci un po' di più abbiamo fatto un gol ragazzi che Maradona ha spostati la mano la mano la mano dios vai andiamo midland sì sì qui è qui è qui è No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Non ci sta. No, no, no. 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 Alla ulti è morto. No, no. No, no. No, no. 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 E' la verità E' la verità Guarda che il tuo Che mi sta morendo coglione Coglione che fai flash coglione Coglione che fai Non muoio non muoio pezzo di merda Non muoio Mi segui mi segui Non muoio non muoio Troppi miss Guarda pensa marcio 1-1-8 E per te non è un buon game Perché ho visto qualche grab Pensa quanto sei viziato eh Ma a me piace questo fatto Continua a esserlo Perché io ti darò sempre il meglio Se io ho miss Tu non devi giocare Grazie mille Grazie mille Oh Oh Grazie mille E andiamo Andiamo ragazzone Andiamo Andiamo Giochiamo per Eraldo Anzi giochiamo Torre top Visto che questo Smondo sta facendo Il bullo del cazzo As long as it takes As long as it takes A fresh other again Questo lo ammazzi tu Oh merda No Boom Facci ridere Facci ridere con D'attacco Vediamo che succede Vieni 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 Tu Tu sei morto Tu sei morto Orrei Se mi aveva sbagliato La cazzo ulti Era buono Non morivamo Perché lui Perché lui non ce l'aveva No L'ha avuto Perché lui non ce l'aveva La cazzo Vai che surrendano Questi surrendano Anah You're going back to the day la tua squadra ha distruttato un turrent morire ma non è facilissimo che muoia devo anche l'eraldo io comunque l'avrei nezzo con la cosa ci facciamo nezzo per 3 è enorme e andiamo ragazzi vi siete divertenti eh vi stai divertendo ragazzi vi stai divertendo eh vi stai divertendo vi stai divertendo boys vi stai divertendo eh vi stai divertendo si no non vi stai divertendo per niente nemmeno un pochino un 5 e mezzo nulla è un game troppo facile dai ve lo movimento io non vi stai divertendo non vi stai divertendo non vi stai divertendo ora è un game equilibrato non vi stai divertendo non vi stai divertendo non vi stai divertendo non vi stai divertendo è un luogo di in caribbia è un po' gridi anche da qui non ho visto non c'è alcun bisogno di farlo il game è più difficile del previsto eh abbiamo la sola a breve keep tryhardin però non abbiamo visto quello come si chiama non abbiamo visto la cosa di smolder quello raldo gli ha fatto male poteva morire quella mamma mia vaker gli otp e merdinger mi fanno paura il knight solo diamo il più forte credo che sia draven o e merdinger anche team è forte ma che d'ingezza è più forte non c'è Il flash No Non lo aspetterò mai Ti faccio il grab Di lato Quanto cazzo È veloce È morto Non lo aspetterò mai Non lo aspetterò mai No, padre, è impossibile grabare È troppo difficile Non ce la fare mai Ehi, lasciami giocare, campione Non ce la fare mai No, è buono Comunque si giocano un po' peggio, ragazzi, anche per colpare la musica Non si può parcheggiare con la musica così alto È buco Sono veramente dei peggio, ragazzi Va bello Oh, giro Grazie a tutti Ce lo possiamo fare io a lui Questo non regola la fragma ma support Ci facciamo come Come ultimo item Non lo so Frozen Abyssalmas com'è? C'abbiamo due AP in squadra Abyssalmas che mi piace un sacco E si perchè è vero Ci hanno trovato attacker ma uno è Jin Che lo fa dalle istanze Smallden non è trovato attacker Viega una merda a pedali La gana è la loro più forte La abyssal noi abbiamo due AP e mezzo Il problema è che loro scavano veramente tanto bene Quindi dovrò finire prima il game Però dai non ci sguidiamo Che dodge Moro guarda Porco Dio È vinto È vinto È vinto Vinta Vinto Vinto il game Grandi ragazzi Che game Due T Vinto 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 Grazie a tutti